Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in molti altri paesi si celebra l'Ascensione del Signore. È una festa che ben conosciamo, ma che può far sorgere alcune domande, almeno due. La prima domanda, perché festeggiare la partenza di Gesù dalla terra? Sembrerebbe che il suo congedo sarebbe un momento triste, con qualcosa, non precisamente per gioire, no? Perché festeggiare una partenza? Prima domanda. Seconda domanda, cosa fa Gesù adesso in cielo? Perché festeggiamo? Perché con l'Ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne in cielo. È la prima volta, eh? Cioè l'ha portata davanti Dio. Quell'umanità che aveva presso in terra non è rimasta qui. Gesù dopo il risorto non era uno spirito, no? Aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'Ascensione Dio stesso è cambiato. Da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama, reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità. Il posto che ci aspetta è dunque indicato, il nostro destino è lì. Così scriveva un antico padre nella fede. Splendida notizia, diceva. Colui che si è fatto per noi uomo, per renderci suoi fratelli, si presenta come uomo davanti il padre, per portare con sé tutti coloro che gli sono congiunti. E questo oggi festeggiamo la conquista del cielo. Gesù che torna al padre, ma con la nostra umanità. E così il cielo è un po' nostro già. Gesù apporta la porta e il suo corpo è lì. La seconda domanda. Ma cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al padre prega così, facendole vedere le piaghe. Questo è quello che ho sofferto per gli uomini. Fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Il padre si commuove. Questa è una cosa che mi piace pensare a me. Ma pensate voi, così prega Gesù. Lui non ci ha lasciati solo. Infatti, prima di ascendere, ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È sempre con noi. Ci guarda. È sempre vivo con noi. per intercedere, per intercedere al nostro favore, per far vedere le piaghe al padre per noi. In una parola, Gesù intercede. È nel luogo migliore davanti al padre suo e nostro, per intercedere al nostro vantaggio. L'intercessione è fondamentale. Anche noi ci aiuta questa fede. Non perdere la speranza. Non scoraggiarsi. Davanti al padre c'è qualcuno che ti fa vedere le piaghe. E intercede. La regina del cielo ci aiuta a intercedere con la forza della priera. Regina, c'è lì letare. Alleluia. Chia che mi metti. E per me lo isi portare. Alleluia. Ressurrezzi sicudixit. Alleluia. Gauda e letare, Virgo Maria. Alleluia. Qui assurrezzi tu dominus vere. Alleluia. Deus, che per rassurrezione infilitui i domini nostri, Gesù Cristo, il mondo un litificare degnato sess. Presta a questumus teius e netricem, Virgine Maria. Perpetuo e capiamus gaudia vite per Christum Domino Nostrum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicuterati in principio et nuca et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicuterati in principio et nuca et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicuterati in principio et nuca et semper, et in secula seculorum. e in saecula saeculorum. Amen. Profidelibus defuntis, in recima eterna nona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Rececante in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc etusque in saeculum. Aiuturium nostrum in nomine Domini. Qui fecit cerum et terram. Benedicat vos, omnipote Theus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, è triste ma, a un mese dello scoppio delle violenze in Sudan, la situazione continua ad essere grave. Nell'incoraggiare gli accordi parziali finora raggiunti, rinnovo un accorato appello affinché vengano deposte le armi e chiedo alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare la sofferenza della popolazione. Per favore, non abituiamoci ai conflitti e alle violenze. Non abituiamoci alla guerra, per favore. E continuiamo a stare vicino al martoriato popolo ucraino. Se celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema parlare col cuore. È il cuore che ci muove a una comunicazione aperta, accogliente. Saluto i giornalisti, gli operatori della comunicazione qui presenti. Li ringrazio per il loro lavoro e auspico che sia sempre al servizio della verità e del bene comune. Un applauso a tutti i giornalisti. Oggi inizia la settimana in Laudato Sì. Ringrazio il Di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale e le numerose organizzazioni aderenti e invito tutti a collaborare per la cura della nostra casa comune. C'è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività. Ce lo ricordano anche le recenti calamità come le inondazioni che hanno colpito in questi giorni l'Emilia Romagna, alla cui popolazione rinnovo di cuore la mia vicinanza. Adesso in piazza saranno distribuiti i libretti sull'Alaudato Sì che il Di Castero ha preparato in collaborazione con l'Istituto Ambientale di Stoccolma. Saluto tutti voi, romani e pellegrini dall'Italia, di tanti paesi, vedo tante bandiere lì e benvenuti. Saluto particolare le suore francescane di Santa Elisabetta dall'Indonesia, da lontano, i fedeli di Malta, del Mali, dell'Argentina, dell'isola caraica Curacao e la banda musicale di Porto Ricco. Ci piacerebbe sentirvi suonare dopo. Saluto inoltre il pellegrinaggio diocesano di Alessandria, i ragazzi della Cressima della Diocesi di Genova che ho incontrato ieri. Ho incontrato ieri col cappello rosso lì a Santa Marta, bravi, eh? I gruppi parrocchiali del Molise, di Scandici, Grotte e Grunonevano, le associazioni impegnate per la difesa della vita umana, il coro giovanile Emil Comel di Gorizia, le scuole Caterina, Santa Rosa e Sant'Orsola di Roma, i ragazzi dell'Immacolata. A tutti voi auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Per favore, non dimenticatevi. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci. Grazie.